Che cosa ti aspetti dal mio aiuto? Sono riuscito a rovinare tutto. Cosa mi è successo, dottoressa Santino? Lei può curarmi? Mi sto facendo tutta una serie di domande. È finita. Mi ha battuto. I campi minati della vita non finiranno mai. Se qualcuno ti tende una mano, devi essere pronto ad afferrarla.